con voi leggiamo dalla prima epistola di Paolo ai Corinzi dal capitolo 3 questa è una epistola che se ci è cara per la parte che ha a che fare l'ordine del culto l'opera dello spirito santo quindi i carismi e ciò che concerne la spiritualità questa è una lettera che l'apostolo Paolo scrive a questa chiesa partendo da un dato di fatto che sollecita il suo intervento c'erano delle contese all'interno di questa chiesa greca si erano fatte delle fazioni si erano fatte dei gruppetti infatti ricorderete se avete il testo davanti a voi della prima epistola ai Corinzi prima di leggere dal capitolo 3 se voi avete davanti il testo al capitolo 1 al verso 11 leggiamo mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo fratelli miei da quelli della casa di Chloe che vi sono contese fra voi or voglio dire questo che ciascuno di voi dice io sono di Paolo io sono di Apollo io di Cefa è Dio di Cristo Cristo è forse diviso Paolo è stato forse crocifisso per voi o siete voi stati battezzati nel nome di Paolo quindi c'è all'origine di questa lettera la necessità di fare una certa chiarezza ed è una chiarezza che io ritengo che di tanto in tanto vada fatta in tutte le comunità perché i nostri contesti per grazie del Signore non sono statici se ci guardiamo attorno tra i presenti c'è qualcuno che si sta aggiungendo nelle ultime settimane non so se c'è qualcuno che è qui per la prima per le prime volte ma so di volti che sono qui da qualche mese qualcuno è da qualche anno qualcun altro da qualche decennio qualcun altro invece è qui da quando è nato sta qui che ci sta crescendo perché i genitori sono parte di questa famiglia lui, lei è nato con i genitori nel seno della Chiesa e quindi dalla nascita fa parte della comunità però l'opera si muove si muove e lo testimoni il fatto che dicevo che non tutti sono qui dallo stesso periodo e ci sono all'interno di questa comunità molti che si adoperano sia per le visite, per l'evangelizzazione nei progetti dietro e quindi a secondo delle attività a secondo dei contatti che abbiamo si fanno dei gruppi ed è normale che si facciano dei gruppi il progetto dietro è fatto di gruppi le nostre famiglie sono dei gruppi ciascuno di noi ha dei contatti delle amicizie che sono un gruppo i fratelli le sorelle della diaconia sono in un gruppo di servizi i fratelli le sorelle che suonano e cantano sono nel gruppo della musica ci sono tante aria che non significa che la chiesa è spezzettata in tanti gruppi ma questi gruppi servono a identificare delle aree di lavoro dei momenti di incontro hanno la loro ragione d'essere quello che non ha ragione d'essere è che i membri partecipanti di un gruppo distolgono lo sguardo da Cristo e cominciano a confidare a ispirarsi al loro responsabile alla loro responsabile al maschile e al femminile e si comincia a dire vuoi per scherzo vuoi perché poi uno si convince io sono di Tizio io sono di Caio a me piace Paolo a me piace Apollo a me piace Sempronio a me piace Eustacchio meglio fare nomi che non corrispondono a nessuno e se quelli che sono coinvolti restano indifferenti queste diventano delle mine all'interno della comunità e Paolo non si vanta che alcuni tendono per lui Paolo non è arrabbiato che alcuni tendono per Apollo o per l'Apostolo Pietro Paolo è rammaricato che costoro non hanno ancora compreso che l'insegnamento che hanno ricevuto che il battesimo stesso seppur amministrato da Paolo o da qualcun altro non è legato alla loro persona infatti abbiamo letto che l'Apostolo dice voi non siete stati battezzati nel nome di Paolo anzi più avanti se voi leggete è contento del fatto di averne battezzati pochi a Corinto allora andiamo alla lettura del capitolo 3 or io fratelli non ho potuto parlare a voi come a spirituali ma vi ho parlato come a carnali come a bambini in Cristo vi ho dato da bere del latte e non del cibo perché non eravate capaci di sopportarli anzi non lo siete neppure ora perché siete ancora carnali infatti poiché fra voi vi è invidia dispute e divisione non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo perché quando uno dice io sono di Paolo è un altro io sono di Apollo non siete voi carnali chi è dunque Paolo e chi è Apollo se non ministri per mezzo dei quali voi avete creduto e ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno io ho piantato Apollo ha innaffiato ma Dio ha fatto crescere ora né chi pianta né chi innaffia è cosa alcuna ma è Dio che fa crescere così colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica noi siamo infatti collaboratori di Dio voi siete il campo di Dio l'edificio di Dio e ci fermiamo qui poi se volete potete anche continuare a leggere e mi piace sottolineare nell'ultimo verso questi tre complementi di appartenenza di Dio di Dio di Dio noi collaboratori di Dio voi campo di Dio voi edificio di Dio il proprietario il titolare se preferite il padrone il gestore il capo di ogni cosa è Dio e quando queste cose le dice un uomo come Paolo noi ci dobbiamo fare piccoli 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 perché se Paolo che ha scritto gran parte di quello che leggiamo se Paolo che è stato lo strumento che è stato e manca farla apposta domenica scorsa il pastore Remo se ricordo predicava sulla su quello che era lo schiaffo del diavolo sulla faccia di Paolo malattia malformazione per la quale lui dice ho pregato tre volte e il Signor mi ha detto la mia grazia ti basta Paolo che era uno del quale si prendevano gli abiti e li si portava sui malati affinché venissero guariti Paolo che ha visto risurrezioni dei morti Paolo che ha visto le tempeste i naufragi in mezzo al mare e ne ha scampato Paolo che è stato morsa da una vipera l'ha scossa e non gli è successo niente Paolo che è stato lo strumento per raggiungere l'Europa e attraversarla tut quanto Paolo che poteva dire a quelli di Corinti ma Apollo ve l'ho portato io Apollo è un discepolo mio Apollo è un mio collaboratore ma la smettete di mettervi a fare questo tipo di differenze oppure doveva recriminare la sua autorità apostolica e dire voi appartenete a me se questa chiesa esiste è perché io l'ho fondato se voi siete convertite è perché sono venuto a prendervi io casa per fa questo l'apostolo Paolo guai a noi se vogliamo dei meriti sulla salvezza dei nostri fratelli delle nostre sorelle guai a noi guai a noi se vantiamo dei meriti sull'edificazione sulla crescita spirituale di qualcuno guai a noi a pensare solo a pensare perché poi non si è il coraggio di dire nei confronti di qualcuno se tu oggi sei un diavolo se tu oggi sei un servitore perché io ho speso tempo quell'io quell'io così piccolo ma così grande io è una delle parole più piccole in inglese è costituito soltanto da una vocale lo sapete no dalla i che leggono ai una sola lettera ma in quella lettera ci può stare di tutto ci sono alcuni che nella loro lettera ci mettono il mondo intero e quelli che non mettono il mondo intero dentro di loro sapete dove lo mettono sopra di loro e sono convinto che il mondo si mantiene perché sotto ci stanno loro che il giorno in cui loro si spostano crolla il mondo finisce ogni cosa e purtroppo capita anche nella chiesa che molti nel desiderio di servire si convincono che se non lo fanno loro si ferma tutto ditemi un poco è così no che non si ferma tutto ma è così che qualcuno pensa questo no assolutamente perché io non faccio riferimento né a cose né a fatti che conosco quello che io predico è come a volte leggete al termine di un film i riferimenti a fatti e persone sono puramente casuali caso vuole che noi non crediamo al caso perché per i credenti caso non esiste ma osiamo credere che quello che meditiamo quello che la scrittura ci mette davanti forse forse molto forse è qualcosa che Dio vuole indirizzare alla nostra vita per il nostro bene allora noi lo ascoltiamo lo meditiamo lo raccogliamo e poi ciascuno si regola di conseguenza Paolo ha il coraggio e ha il coraggio che ogni servitore dovrebbe avere di non far finta di nulla di non dire ma tanto io non sto tra voi ma fate quello che vi pare litigate contendete dividetevi e se noi guardiamo alla nostra storia perché questo testo è legato al movimento pentecostale che vi dicevo all'inizio alla sua storia che gran parte oggi delle chiese esistenti sul nostro territorio sono figlie di contese sono figlie di divisioni si potrebbe essere tutti assieme sotto il nome del Signore Gesù e invece si è tanto divisi sotto il nome di Paolo sotto il nome di Cefa sotto il nome di Apollo e qualcuno dice ma è perché siamo italiani no fratello questa storia è antica come la Bibbia questa storia è antica come l'Evangelo e questo testo ce lo dice chiaramente è umano che certe cose nascono però ciò che non deve accadere l'indifferenza dei servitori o i servitori che fomentano la divisione ecco che Paolo è il nostro esempio è il nostro metodo Paolo scrive alla chiesa e dice quello che voi state facendo è assolutamente sbagliato perché questo induce anche la mia persona in errore chi è Paolo chi è Apollo se non dei ministri attraverso i quali voi avete creduto ma solo dei ministri degli strumenti voi avete creduto secondo che il Signore ha dato a ciascuno hai voglia di predicare hai voglia di evangelizzare hai voglia di leggere la Bibbia hai voglia di spiegare i versetti uno per uno alle persone se non arriva lo Spirito Santo che convince che allarga la mente che apre gli occhi nessuno mai piegherà il proprio cuore al Signore ditemi un poco ciascuno di voi siete giunti alla salvezza e alla conversione per la bravura di un servitore per la bella predicazione di qualcun altro per l'incessante testimonianza che avete ricevuto perché qua qualcuno non vi lasciava riposare vi mandava i messaggini credi in Gesù altrimenti finisci all'inferno ravvediti c'è qualcuno di voi che può dire io mi sono convertito in questo modo o riconosciamo che Dio si si è usato di qualcuno si è usato del fratello della sorella che un giorno ha bussato alla tua porta o quando eri in un determinato momento ti è venuto a visitare ti ha telefonato ha speso una parola di incoraggiamento e tu oggi ringrazzi Dio per quella persona ma riconosci che è stato lo Spirito Santo ad aprire i tuoi occhi a rompere l'indifferenza del tuo cuore a far brillare la scrittura dinanzi a te e hai visto la tua strada illuminarsi di una luce nuova e quindi è il Signore che ci ha conquistato lo stesso Paolo scrive è l'amore di Dio che ci costringe così come è l'opera dello Spirito Santo che ci convince sì è necessario che qualcuno pianti è necessario che qualcuno annaffie lo facciamo lo facciamo ogni giorno chi predica è come chi pianta è come chi semina chi innaffia sono i fratelli le sorelle che si prendono cura i tanti gruppi il gruppo Priscilla il progetto dietro i fratelli della vigilanza ma il fratello la sorella Pinco Pallina che ti chiama e ti dice sei stata al culto hai fatto hai ascoltato hai sentito come stai questo è prendersi cura ma chi fa crescere chi fa crescere è il Signore e se noi oggi siamo ancora qui è perché ci ha fatto crescere e ci sta facendo crescere il Signore altrimenti questi semi sapete quanto tempo fa sarebbero morti sapete queste piantine quanto tempo fa sarebbero state spezzate dalle cattive testimonianze dalle proprie esperienze sbagliate dalle cadute dall'indifferenza dei fratelli e delle sorelle perché quando hai attraversato il tuo momento più difficile guarda caso quel caso che per noi non esiste proprio in quel caso non c'era nessuno uno pianta un altro annaffio un altro cura ma è Dio che comincia un'opera ed è Dio che la porta da compimento vi dico questo ed è necessario che questo venga detto di tanto in tanto perché nessuno di noi deve edificare su un essere umano maledetto l'uomo che confida nell'uomo sia egli o ella il più santo o la più santa sulla faccia della terra ricorderete tutti quanti di Noè ai tempi del diluvio Noè come lo definisce la scrittura era il giusto sulla faccia della terra ed è grazie a lui che non solo furono salvati gli animali ma anche quelli di casa sua ma immediatamente dopo il diluvio che fa Noè dice la scrittura si ubriaca alza il gomito forse per feste aveva visto tanta di quell'acqua che era necessario un po' di vino ma la scrittura ci racconta quell'episodio per mostrarci che anche un uomo giusto come Noè ha le sue debolezze la storia di Giacobbe la conoscete tutti quanti la storia di Abramo non ce n'è uno nella scrittura di cui la Bibbia non racconti una defaianza proprio per dirci nessuno tranne uno uno Giuseppe quello venduto dai fratelli no non era una persona no uno solo Gesù ed è grazie a Lui che noi abbiamo ricevuto salvezza ed è su di Lui che è stato posto il fondamento infatti se leggete più avanti noi ci siamo fermati al verso 9 al verso 11 l'apostolo scrive nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto che è Gesù Cristo Paolo non dice sono io il fondamento non dice è il mio insegnamento la dottrina quello che ho fatto quello che ho detto no dice il fondamento è Cristo Gesù e noi tutti dichiariamo che la nostra fede fonda sul Signore Gesù che la nostra salvezza è in Cristo è per questo che siamo salvati altrimenti dovremmo dubitare della nostra salvezza ma siccome è Lui che ha compiuto l'opera la nostra salvezza è certa è sicura in Lui ed è su di Lui che vogliamo appoggiare ecco perché continuiamo a predicare l'Evangelo a commentare la scrittura ad adoperarci affinché gli insegnamenti vengano diffusi affinché tutti nutrano la propria fede della parola di Dio sì sono belle le testimonianze sono belle le esperienze degli altri ma sono per un tempo come i sogni come le visioni come le stesse profezie cielo e terra ha detto Gesù l'ha detto Lui cielo e terra e quando dice cielo e terra intende anche tutto quello che è nel cielo e tutto quello che è nella terra noi inclusi passeranno ma la mia parola rimane in eterno è davanti al riconoscimento che è Dio l'architetto supremo che è Dio colui che sovrintende Dio che progetta e noi come chiesa siamo il campo di Dio siamo l'edificio costruito su Cristo Gesù altrove l'apostolo Paolo ci raffigura come appunto come un edificio dove noi le membra siamo le pietre poste una accanto all'altra e questo già ci potrebbe bastare però c'è la parte riguardante il servizio Dio che sovrintende Dio che governa Dio che è architetta cerca collaboratori vi offro un annuncio da parte di Dio cercasi collaboratori poi l'annuncio c'è tre puntini e aggiunge a titolo gratuito io sottolineo a titolo gratuito nessuno si offre di collaborare con Dio per aver qualcosa in cambio perché egli già ci ha dato tutto avendo dato per noi il suo figlio Gesù e l'apostolo Paolo dice ai corinti noi io cef Apollo tutti gli altri noi siamo collaboratori quando si collabora con qualcuno e in questo caso il qualcuno è il capo il qualcuno è il numero uno il nostro vanto è già essere suoi collaboratori e quando si collabora con Dio non si decide al posto di Dio non si dice a Dio cosa deve fare noi collaboriamo noi siamo al suo servizio noi siamo disponibili per l'opera sua noi siamo disponibili per la causa sua e noi collaboriamo al campo quel campo dove si semina quindi si pianta si annaffia si cura si concima ma in quel campo che appartiene a Dio chi fa crescere è Dio se la nostra fede è radicata su di Lui potremmo vederle cotte crude bianche nere se apparteniamo al Signore ecco perché la scrittura dice che quelli che gli appartengono non si perdono non si smarriscono perché non stanno seguendo un uomo i discepoli quando Gesù viene arrestato si disperdono perché non hanno ancora compreso chi è Gesù se oggi alla prima difficoltà al primo scandalo alla prima cattiva testimonianza alla prima cosa che il tuo orecchio ode non è in sintonia con quello che pensi è in disaccordo con i tuoi gusti comincia a voltare le spalle e a scappare perdonami se dico che non hai ancora maturata una fede nel Signore Gesù dopo la resurrezione gli stessi discepoli che erano scappati andranno al martirio non torneranno più indietro ma saranno fedeli al Signore fino alla fine Pietro incluso Paolo anche fino alla fine collaboratori di Dio secondo la grazia che mi è stata data come Savio Architetto io ho posto il fondamento un altro vi costruisce sopra ora ciascuno stia attento come vi costruisce sopra perché nessuno può porre altro fondamento che è stato posto che è Cristo Gesù nessuno di noi abbia mai la presunzione di sostituirsi a Cristo nessuno di noi cerchi la vana gloria nessuno di noi cerchi il placet l'applauso dei fratelli delle sorelle ricordate di Gesù che diceva dei farisei che si mettevano all'angolo della strada a pregare diceva quelli si mettono là per farsi vedere perché quando uno passa dice come è bravo come è pio quell'uomo e Gesù aggiunge quella è la loro ricompensa ma quando tu preghi entra nella tua cameretta segreta quando tu servi il Signore non farti vedere da nessuno quando ti adoperi per l'avanzamento del regno di Dio nasconditi travestiti non farti riconoscere perché la prima opera del diavolo è quella di venirti a lodare è quella di venirti a vantare è quella di venirti ad accarezzare e voi tutti conoscete il proverbio napoletano che quando il diavolo vuole prendersi l'anima ma noi l'anima nostra l'abbiamo affidata al Signore e vogliamo rimanere in umiltà in sottomissione nascosti in Cristo e tutto quello che è nostra possibilità di fare facciamolo poi quello che succede dopo non sia problema nostro il campo è di Dio la Chiesa appartiene al Signore se cominciamo a pensare di essere indispensabili e che eggi nel nostro orecchio il verso che dice siete tutti servi dissutili per la serie tutti utili ma nessuno indispensabile che il Signore ci aiuti vi invito ad alzare per la serie